Ok la partenza in serie D regionale ligure femminile di pallavolo di quella Rainbow Spezia che visto che nella scorsa stagione è arrivata ai playoff da neopromossa in D appare ora come ora la compagine fra quelle della nostra provincia in questa competizione dotata di maggiori potenzialità. A Vezzano le ragazze allenate da Franco Saccomani infatti ricevono e surclassano con un sonoro 3 a 0 la Normac Genova e domani vanno a Genova per il secondo turno in casa del CUS. Qui qualche immagine di un recetissimo allenamento. E' andata nettamente bene perché come prima di campionato siamo partite subito col piede giusto un 3 a 0 diciamo che c'è ancora qualcosa da su cui lavorare sicuramente perché siamo all'inizio però siamo contenti perché comunque un 3 a 0 sono subito 3 punti e cerchiamo adesso di continuare sempre a lavorare meglio perché orai andremo fuori casa. Andiamo a Genova contro il CUS non sappiamo come sia questa squadra quindi noi andiamo cerchiamo di fare il meglio possibile. Sempre nel girone B della serie di Ligure regionale femminile di Pallavolo bene pure l'avvio del Santo Stefano Magra che al Palaconti riceve e batte molto nettamente a sua volta con il 3 a 0 la scuola Pallavolo Carasco. Questa sera le Santo Stefanesi vanno a loro volta a Genova in casa della Serteko School. In queste riprese alcuni frangenti del nettissimo successo sulle caraschesi. Infine da parte sua il volley colombiera Amelia Project domani è atteso a Ponte Decimo dallo Spazio Sport.